però è più notta la sorellina sveglia 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 assassino no camionista ma chi è cosa vuole si può sapere ma lei la gente prima la prende a calci nelle cose e poi gli domanda chi è sono il gerente responsabile e unico azionista dell'africa express import export e scambio merci mi scusi la reazione un po violenta ma ero proprio terrorizzata perché cosa le è successo dei banditi hanno assalito il treno e io l'ho presa per uno di loro una rapina sì no veramente sembrava che cercassero qualcuno ma perché è scappata è che ho avuto paura ho avuto tanta paura ma adesso è passata l'accompagna la missione padre gasperin sarà lieto di aiutarla anch'io sono lieto di aiutarla chi non lo sarebbe